Un'idea geniale, del tutto originale, è quella di lanciare una nuova etichetta pensando alle tradizioni e agli antichi riti. Nella splendida location dell'azienda Donna Chiara a Montefalcione, nella serata di ieri l'evento club è presentare la nuova linea Cape Mort Unconventional Wine. Un'etichetta curata dalla massima espressione della creatività e dell'arte dall'artista Alex Kameniti e dunque parte dall'Irpinia il perfetto connubio tra il vino e l'arte. Volevamo fare una cosa cool, quindi Cape Mort in napoletano però con la K, infatti molti stranieri la chiamano Cape Mort quindi una cosa diciamo un po' diretta a un pubblico anche più giovane. In realtà poi ci siamo trovati invece tra le mani un prodotto molto trasversale che incuriosisce tutti. È nata appunto questa fantastica etichetta, tra l'altro credo che sia l'unica al mondo perché io comunque ne ho viste tantissime e così non ne ho mai viste quindi siamo originali anche in questo. È una delle prime manifestazioni dopo il fermo e credo che sia una cosa molto importante e di grande auspicio per poter ripartire e credo che il sistema vino ad Avellino più ne faccia di queste attività più credo ci dà quella possibilità, quello sprint per poter iniziare e continuare su questo meraviglioso settore. Bisogna allargare lo sguardo e puntare su quello che è la forza del nostro territorio e unire il turismo di Napoli con le qualità dei prodotti irpini come quello del vino secondo me è un connubio speciale. Interpretare un mondo che è estremamente tradizionale perché comunque è il primo settore che ha accompagnato la vita dell'uomo e però dall'altra parte oggi sta trovando una sua grandissima vitalità anche grazie a iniziative di questo tipo e soprattutto anche grazie alla creatività, alla caparbietà in questo caso, alla tenacia di chi evidentemente a questo mondo si approccia in un modo innovativo.